Ciao a tutti e ben trovati nella nuova puntata. Questa volta non vedete che lascerò da solo di Marca con me, e poi a fare altri video, molto aiutato, semplicemente, perché facendo gli ultimi video, un po' mi sono sbilanciato, non sapevo cosa dire, ma stavolta ho scelto qualcosa di cui non sapete di me, anzi 5 cose di cui non sapete. La prima cosa che non sapete di me è questa. Ecco, vede? Sono un fan, sono un fan della musica EDM, vi faccio tutti questi dettagli, atti, 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 a voi, bambiore, a voi, biond, frontliner, Arctic Moon, cittadani alcuni. Ho cominciato a fare musica nel pc, e ancora oggi ogni tanto troppo qualche canzone. Purtroppo ho dovuto chiudere il mio canale alle sangue, perché? Perché purtroppo, mia meraviglia, come no, non scemo le musica. La seconda cosa che che non sapete è questa, vede? Sono un fan. un popolo scout. E tra qualche giorno, non poter immediately s consumed, il gruppo capitelo butseina che si perde, anche il doro fumuno. La terza cosa che non sapete è questa. i miei capelli cioè io allora io in GDG sono castano no 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 chiaro castano no 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 chiaro quindi ma io non so io in GDG sono cioè ero lì ho lì e poi alla fine c'è questo tipo di capelli strano la furia d'Italia di fare shampoo sono tanti in questo modo la quarta cosa la piccola redagitavo assai soprattutto alla scuola elementare e mi dico in particolare perché alla terza elementare una mia maestra è andata in pensione e quindi la scuola ha in pratica organizzato questa recita si organizzato questa recita per salutarla io ho fatto il maestro in questa recita il maestro è una scuola di ecco è stato affatto bello la quinta e ultima cosa i computer io ho questa passione per i computer fin da piccolo ho imparato a leggere il computer in pratica alla prima elementare che ti ho fatto accortare ho letto ho preso il libro il libro italiano che c'era una lettura e e ho letto volando incredibile ma 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 vero quando finisco il canteggio io ritorno a fare altri video finalmente ritorno a fare altri video come prima scegliendo argomenti semplici e immediati quindi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao